Oggi è la giornata mondiale della fibromialgia. Quali sono le iniziative che state portando avanti al Buccheri? Le iniziative sono proprio di supportare il nostro ambulatorio di terapia del dolore, soprattutto mettendo in collaborazione non solo i nostri professionisti, ma coinvolgendo anche le associazioni dei malati e il nostro Dipartimento del Farmaco dell'ASPE di Palermo. A livello innovativo, come iniziativa, c'è quella di introdurre, proprio per la cura del dolore per i malati di fibromialgia, quella dell'introduzione della cannabis terapeutica nelle farmacie che si andranno a convenzionare con l'ASPE di Palermo. Con l'ingresso della cannabis terapeutica all'interno della struttura potrete curare diverse malattie? Sì, tutte le malattie che sono caratterizzate dal dolore, dolore neuropatico, il dolore appunto come già è stato detto riguardante la fibromialgia e quindi la possibilità di prescrivere i piani terapeutici e che possono essere poi esitati dalle farmacie che entrano in convenzione sia con l'ASPE che con noi direttamente potrà essere fatta la terapia anche per tutte le patologie che considerano appunto hanno il dolore come sintomo principale. Noi abbiamo già da tempo avviato un ambulatorio di terapia del dolore che è gestito dai nostri anestesisti, ma sarà anche allargato a altre figure professionali, a altri specialisti, quali per esempio i neurologi, perché appunto trattano e hanno la possibilità di seguire e di valutare già in prima battuta anche nello stadiare questa situazione di dolore cronico. Il Dipartimento Farmaceutico dell'ASPE di Palermo ha predisposto una delibera per attivare una convenzione con le farmacie private convenzionate presenti sul territorio della provincia, proprio per dare la possibilità delle preparazioni dei prodotti a base di cannabis perché ad oggi l'azienda sanitaria non è in grado, non ha delle strutture idonee per fare queste preparazioni, quindi si sta convenzionando con alcune farmacie private per dare una risposta ai pazienti che in questo momento hanno difficoltà per accedere alle terapie o quantomeno sono abbastanza costose. Quando partirà? Partirà nel più breve tempo possibile perché è già la firma, la delibera, penso che in settimana dovrebbe essere firmata e quindi sarà operativa già penso alla prossima settimana. Dottoressa parliamo della fibromialgia, di cosa si tratta nello specifico? Come si caratterizza la malattia? Allora la malattia è una malattia cronica caratterizzata da dolore principalmente e soprattutto il dolore che veramente dà fastidio al paziente ma ci sono tantissimi altri sintomi, forse più di un centinaio, che rendono la quotidianità del paziente veramente difficile da affrontare. Intendo per esempio una profondissima astenia, cioè la mancanza di forze, di energie, pur avendo spesso tanta voglia di fare, intendo disturbi del sonno che sono gravissimi e il paziente fibromialgico spesso si sveglia dalle 10 alle 30 volte durante la notte, immaginate come possa sentirsi l'indomani mattina e poi i dolori che sono diffusi a tutto il corpo con caratteristica di puntura, di spillo o addirittura un dolore bruciante e quindi tutto quello che questo può comportare. Ma non sono soltanto questi, questi sono i sintomi più importanti, ce ne sono alcuni veramente invalidanti, soprattutto per le donne. Quali sono le cure attuali? Allora, le cure attuali i medici, me compresa, le abbiamo presi da altre patologie, rassomigliando quello che vediamo nella fibromialgia a quello che vediamo in altre patologie meglio note. In realtà, e quindi abbiamo utilizzato i farmaci antidepressivi per la gestione del dolore, che sono un cardine importante, non perché il paziente è depresso di suo e diventa fibromialgico, ma perché la malattia cronica spesso si accompagna anche a depressione come conseguenza del dolore cronico. Abbiamo utilizzato farmaci mio-rilassanti, questi pazienti hanno i muscoli sempre tesi. Abbiamo utilizzato farmaci antiepilettici, tutti farmaci che sono normalmente efficaci in molte tipologie di dolore, ma che in effetti nel paziente fibromialgico puro, cioè che ha solo la malattia fibromialgia e non una forma secondaria ad altre patologie, sono poco efficaci. E la fibromialgia primitiva, quello che sta venendo fuori da qualche anno, è che la terapia che veramente ha cambiato la realtà di questi pazienti è la cannabis medica. Ovviamente ben utilizzata in maniera da un medico esperto anche nell'uso della cannabis medica, in maniera da titolare l'effetto, perché la terapia deve essere personalizzata sul singolo paziente. Non ci sono degli standard, non so, 5 mg per 3 è efficace per tutti. Questo è esente da effetti collaterali, questo non possiamo ancora affermarlo. E quindi quello che dobbiamo fare, che devono fare i medici prescrittori di cannabis, è cuscire una terapia a base di cannabis medica sul singolo paziente. Oggi in occasione della giornata mondiale della fibromialgia, l'associazione AISF ha lanciato una campagna di sensibilizzazione. Sì, la campagna si chiama Fibroche, diamo un volto alla fibromialgia. Proprio in questa parola fibroche è specificato tutto. Cioè il fatto che la malattia purtroppo non è riconosciuta, la gente non sa di che cosa stiamo parlando. E quindi è importante con questa campagna sensibilizzare, non solo proprio sugli aspetti della malattia, su quello che è la fibromialgia, su quello che comporta come sintomi, ma anche sugli aspetti emotivi, psicologici, di cui purtroppo i pazienti vengono coinvolti. La campagna si basa su 5 illustrazioni. Abbiamo pensato proprio di far realizzare dei disegni che mostrino gli aspetti negativi che una persona fibromialgica purtroppo deve subire da parte di questa malattia. Ovvero il problema del mancato riconoscimento, del fatto di non essere considerati dei veri e propri malati, perché purtroppo molto spesso si minimizza su questa patologia e il paziente non viene inquadrato come malato, ma soltanto come ipocondriaco. Un altro aspetto è il fatto che i sintomi non vengono considerati correttamente. Il paziente fibromialgico la mattina non si alza, non riesce ad alzarsi. Una persona normale invece lo fa. E quindi comprendere quali sono effettivamente i sintomi che compromettono il malato aiuta chi gli sta attorno, ma anche l'ambiente sociale a comprendere effettivamente il paziente cosa vive. Abbiamo voluto proprio evidenziare tutti questi aspetti che compromettono e rendono un paziente invalido da un punto di vista sia fisico ma anche mentale.